Facoltà di Architettura, Università di Roma. Che dire, qui vengono in vacanza questi ragazzi, perché stanno qui ai Parioli, a ridosso di Villa Borghese, un posto fantastico per studiare, sicuramente fuori dal caos. E poi abbiamo la strada privata, con la sbarra, dove non entrano macchine, parcheggiano, niente. Davvero un posto gradevole per studiare. E qui davanti abbiamo la British School. Altra realtà molto, ma molto importante. Diciamo che siamo immersi in un posto veramente fantastico. La Facoltà di Architettura, credo che sia ormai storico il posto. Tutti i più noti architetti romani sono usciti da qui. Guardate che qui è veramente qualcosa di meraviglioso. British School. È stato restaurato, credo, ieri. Accademia Britannica. Veramente un colpo d'occhio pazzesco. Piazzale, Winston Churchill. Non poteva che essere questo. Grazie. 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 Grazie.